Cari amici, ci troviamo oggi a Verucchio, l'antica culla dei Malatesta, per presentarvi fino al negozio La Chiave di Pedrosi Monica in via provinciale San Marino 53, un'antica libreria del Tarno 800 in condizioni perfette, non ha subito alcun restauro, le misure sono 2,40 m di lunghezza per 50 m di profondità e 2,33 m di altezza. Il mobile è in condizioni perfette come potete vedere, ora passo a mostrarvi questa credenza del primo 700 romagnolo, come potete vedere anche questa è in condizioni perfette. Le misure sono alchezza 110 cm, 132 cm di lunghezza e 52 cm di profondità. Vi invito ad ammirare questa graziosa cristalliera in noce di fine 800 con ripiani in cristallo ed un grazioso intarsio sulla parte alta. Le sue misure sono 1,60 m di larghezza per 28 m di e 1,08 m di altezza. Terminiamo questa breve carrellata nel negozio Antichità La Chiave di Pedrosi Monica in via provinciale a San Marino con un numero 50 per l'anno, in località del Ducchio. Trattasi di olio su tela, una natura morta splendida, di centimetri 108 x 70 cm di maestro di scuola primunier. Grazie a tutti!